Nelle intercettazioni legate all'inchiesta della Procura di Roma per corruzione e riciclaggio c'è anche il nome del ministro dell'interno Angelino Alfano, citato per l'assunzione di suo fratello Alessandro alle poste. I finanzieri hanno ascoltato una conversazione risalente al gennaio 2015 tra Raffaele Pizza e Davide Teresco, collaboratore politico del ministro dell'interno Alfano. Pizza, scrivono le fiamme gialle, sostiene di avere facilitato, grazie ai suoi rapporti con l'ex amministratore Massimo Sarni, l'assunzione del fratello del ministro in una società del gruppo Post. Non solo, si legge nei resoconti delle intercettazioni che il fratello di Angelino Alfano, Alessandro, non si sarebbe accontentato dello stipendio da 160.000 euro, poiché per quel ruolo il tetto massimo è di 170.000 euro, sempre secondo le intercettazioni. Pizza racconta sconcertato che questo Alessandro Alfano va dicendo in giro che io l'ho fottuto, perciò io ho paura, dico, te faccio avere un lavoro. Non è la prima volta che il fratello del ministro sale ai disonori della cronaca. Titoli non sufficienti e cariche autocertificate e fasulle portarono nel 2013 il deputato di Sinistra Ecologia e Libertà, Erasmo Palazzotto, a presentare un'interrogazione al ministro dello sviluppo economico di allora, Flavio Zanonato, avendo come oggetto il concorso di segretario generale della Camera di Commercio di Trapani, vinto da Alfano Junior nel 2010. Non solo, nel corso delle indagini venne fuori che Alessandro Alfano mandò un curriculum per diventare segretario generale della Camera di Commercio di Trapani, inserendo un incarico in realtà coperto da un altro. Alcune delle dichiarazioni contenute nella domanda, disse all'epoca Palazzotto al ministro Zanonato, peccano anche sotto il profilo della veridicità della ricostruzione curriculare da parte dell'interessato. Ci si riferisce in particolare alla presunta carica che Alfano ha autocertificato relativamente al ruolo di direttore regionale di Commercio Sicilia in un periodo antecedente alla sua nomina al segretario generale di Union Camera di Sicilia, avvenuta a fine del 2006. Risulta infatti che in realtà egli sia stato semplicemente distaccato presso la sede di Commercio regionale in veste di semplice direttore provinciale di Egrigento e che in tale confederazione non ha mai rivestito il ruolo di direttore regionale, visto che da tempo vi era un altro soggetto che rivestiva tale funzione, l'avvocato Marino Iulo Cosentino. Palazzotto nella sua interrogazione del 2013 fece notare anche che la laurea triennale in economia e finanza conseguita da Alfano Junior era un titolo considerato non idoneo ad aspettare le funzioni di dirigente apicale in una pubblica amministrazione. Non solo quella laurea breve, conseguita alla tenera età di 34 anni nel 2009, lo aveva già fatto finire nei guai. Nel 2011 il suo nome infatti finì in una lista di 32 studenti che avrebbero comprato diversi esami universitari mai realmente sostenuti.